Cittadine arrabbiate sul piede di guerra a causa della mancanza di luce e conseguentemente anche dell'acqua. Non è possibile che nel 2023 il popolo deve subire ancora queste nefandezze e negligenze da parte di chi, ad esempio come nella dirigenza dell'Enel qui a Catania, doveva preventivare in tempi utili e le eventuali problematiche e provvedere insieme all'amministrazione comunale, all'amministrazione della protezione civile, a predisporre dei servizi di noleggio a gruppi elettrogeni e quant'altro utili a poter garantire la continua fornitura dell'energia elettrica. L'Associazione dei consumatori d'Italia, Consitalia, entro pochi giorni depositerà un esposto presso la Procura della Repubblica di Catania al fine di chiedere di accettare le responsabilità personali dei dirigenti indicati per questo tipo di problematica. Chiediamo che venga verificata l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio, danno ai cittadini e danno alle imprese.